Le farmacie della nostra regione potranno effettuare i test sierologici? Dottor Zenobi è così? Sì, abbiamo fatto noi un accordo con la regione, con l'assessorato, abbiamo cercato di venire in conto il più possibile a quelle che sono le esigenze della cittadinanza, quindi si partirà tra, credo fine mese, non appena saranno disponibili appunto questi test, effettuare test sierologici, innanzitutto sui soggetti del mondo scuola, quindi insegnanti, corpo docente e non docente, familiari conviventi, questo a titolo gratuito, quindi a carico del servizio nazionale. Test sierologico che ci darà chiaramente l'indicazione dell'eventuale contatto del soggetto con il virus. Qualora il test sierologico dovesse dare un risultato positivo, chiaramente i risultati sono caricati sulla piattaforma dell'ALS e il paziente dovrà poi fare chiaramente un tampone. Per tutti gli altri soggetti invece i test saranno a pagamento. Vogliamo spiegare, dottor Zerobi, che cos'è il test sierologico che non è da confondere con il tampone rapido? Il tampone rapido è un tampone che si fa su materiale biologico, quindi nasofaringeo. Il test sierologico si fa con un prolievo capillare, quindi una goccia di sangue dal dito, è come un test di gravidanza perché è come rapidità, solo che si fa con le urine. Si mette questa goccia di sangue su una saponetta e in un tempo definito si ha un risultato che, ripeto, dà un valore quantitativo e qualitativo di presenza di IgG e IgM.